Comunità di Sestresa La squadra è una delle più forti di Genova Contiamo anche che faccia meglio dell'anno scorso Perché abbiamo visto uno sforzo della dirigenza a rinforzarla Quindi per la parte tecnica ne siamo lieti E per quanto possiamo diamo una mano Quest'oggi, come diceva lei, è una giornata a livello sociale molto importante Quest'oggi è una piazza importante di Sestresa Abbiamo questa affetta, questa presentazione della squadra del quartiere Sì, devo dire che noi lavorando su tutti i quartieri di Genova Siamo vicini a tutte le realtà territoriali Devo dire che ogni realtà ha la sua storia, le sue tradizioni Sestresa è ancora fortemente Ho tanti anni, ho cominciato ad avere tanti anni i capelli bianchi Ma io ricordo i miei vecchi che chi era di Sestresa Diceva vado a Genova e si sentiva di Sestresa Era un municipio, era una città E tuttora in qualche modo lo rimane Sono comunità molto forti, molto territorializzate Dove può sembrare strano ma ognuna ha veramente anche un approccio diverso alle cose E siamo sempre presenti in molti posti Siamo qui con grande grande piacere Rispetto agli anni passati c'è la presenza del settore giovanile C'è la presenza della scuola calcio, la prima squadra Insomma, un pochino i frutti di un lavoro importante dietro le comunità di tante persone, tante volontà Sì, dietro a queste realtà bisogna sempre ringraziare chi ha la passione di dedicare il tempo Perché diciamo qui non siamo a livello professionistico Siamo a livello veramente di passione Di genitori che magari poi diventano dirigenti, accompagnatori Che danno una mano in tutti i settori e in tutti i modi È veramente cresciuto perché noi la prima presentazione che era stata fatta tre anni fa C'era giusto la prima squadra, è un'altra squadra giovanile Insomma, adesso è veramente una cosa molto, molto grande E devo anche dire che dopo i due anni di Covid Ovunque si vada, noi oggi abbiamo anche una presentazione Sempre di ASER come sponsor al Teatro Nazionale Quindi la Corte e il Teatro Genovese C'è veramente un entusiasmo, una voglia di stare insieme Una voglia di tornare a vivere Che poi nella parte dell'arte, dello spettacolo e dello sport si manifestano Qui ovviamente, come c'è di bellissimo Che tutto questo rumore è fatto da bambini, ragazzini E quando ci sono tanti giovani, specialmente una città come Genova È sempre motivo particolare di orgoglio E non dimentichiamoci i valori dello sport Che cosa vuol dire per quartieri che possono essere non particolarmente difficili Come è Sestri, come è il quartiere In un quartiere tranquillo, però i valori dello sport I valori di chi li propugna concretamente Tutti i giorni dedicandosi a loro Sono importanti e noi li sposiamo ampiamente Grazie a tutti